Ancora una piacevole serata a Villa Pallavicini per la rassegna Liberi incontri con protagonisti della cultura, dello sport e dell'arte. Lunedì sera nel prato del villaggio della Speranza, Monica Mondo, conduttrice di TV2000, ha dialogato con Daria Bignardi, Don Claudio Burgio e con il cardinale Matteo Zuppi. Il tema della Speranza incrocia il mondo del carcere, raccontato da Bignardi nel suo Ogni prigione è un'isola, Mondadori, e da Don Burgio con Non vi guardo perché rischio di fidarmi, edizioni San Paolo, frutto della sua esperienza come cappellano al carcere minorile Beccaria di Milano. Daria Bignardi frequenta da anni il mondo del carcere per la promozione in esso di attività culturali e ne ha fatto oggetto anche di alcune trasmissioni televisive. Alexievich, grandissima scrittrice, premio Nobel nel 2015, lei ha scritto tanto di guerra, quella che più ha raccontato la dissoluzione dell'Unione Sovietica, lei scrive In guerra l'uomo è come illuminato giorno, se è un vigliacco si vedrà subito, addirittura se è un donnaiolo non tarderà a provarci. Il carcere è così, è uno di quei posti, di quelle situazioni estreme dove l'uomo è illuminato giorno, si vede subito per quello che è, non si può nascondere, e non solo l'uomo ma anche i sentimenti primari, ciò che conta, cosa conta nella vita. Don Burgio sottolinea l'importanza della fiducia nei confronti dei giovani. Non serve una legge più dura per contrastare la criminalità e il disagio giovanile, ma servono invece reali opportunità di crescita. Il problema è che noi adulti sappiamo noi già come si educano ragazzi, in realtà la prima cosa da imparare è quella di far silenzio, entrare in cella, ascoltare, mettersi in compagnia di questi ragazzi dentro quello che è il loro percorso, le loro narrazioni, magari anche distorte, ma comunque da ascoltare, perché dietro un reato c'è sempre un'invocazione di aiuto alla fine. Il cardinale Zuppi in partenza per Gerusalemme con il pellegrinaggio di comunione e di pace promosso dalla diocesi petroniana ha ricordato come anche la memoria dell'odio che genera rancori può diventare una prigione invalicabile. La memoria diventa tragicamente una prigione, o meglio, che vivere senza memoria come sappiamo è pericoloso e davvero diventa la condanna, poi a ripetere e a rivivere quello che ha voluto dimenticare o che non ha voluto conoscere. Ma c'è un punto in cui anche la memoria diventa una prigione, perché? Perché ti lega all'odio, perché ti lega alla vendetta, perché ti lega al senso di ingiustizia e svincolarti da questo sembra quasi tradire la tua stessa storia. Prossimo appuntamento martedì 19 giugno, incontro con Franco Nembrini e la sua rilettura del Pinocchio di Collodi per scoprire che parla della vita di tutti. Apertura dello stand gastronomico a partire dalle 19, l'incontro con Nembrini alle ore 21. Apertura dello stand gastronomico.